E fin dai tempi remuti la nostra città conferma ogni giorno di più la sua devozione alla protettrice qualcuno ha suggerito negli ultimi tempi abbiamo una città chiamata turistica e vanno sempre più sorgendo anche anche in Puglia le dedicazioni della città monopoli città mariana e questo lo potrebbe fare anche insieme l'amministrazione monopoli città mariana potrebbe essere anche bello mentre ci avviciniamo al centenario della venta della Madonna della Mariana è una città monopoli che ha veramente tantissime risorse tantissime sfaccettature veramente come se fosse un diamante siamo sempre in cerca di un'identità ma Don Vincenzo ci ha riportato con i piedi per terra in questo momento così spirituale particolare ci ha ricordato che noi potremmo benissimo scrivere alle porte della nostra città non ho una scritta semplice città turistica che penso non voglia dire molto fu messa all'epoca non so da chi ma città mariana perché dimentichiamo anche un elemento particolare che ci unisce che è quello delle rose e dello stemma la rosa come rosa bianca come simbolo di purezza e quindi non solo uno stemma cittadino ma simbolo proprio della beata vergine della Madonna grazie 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 grazie